Allora, il premio per chi perdeva la partita di pallavolo era il dover fare il trenino sulla spiaggia. Adesso vedremo se i perdenti manterranno la paura. Si è stato come capostazione, faccia una dichiarazione. Siamo italiani, i treni non funzionano. Mi date due minuti. Ah no, lui prende... Sì. Vado a chiamarlo. Giovanni, un bicchiere d'acqua. Prende la biglietta, così va pure alco. Mi è andata la partita, arbitro. E' stata una vittoria per voi e siete più bravi, non so che dire. A me lo fanno pure in dalla burocchia.